E di ieri la notizia diffusa dalla nostra emittente sull'imminenza della gara per la residenza protetta da realizzare a Pratola, ma il circo PD pratolano ribadisce le perplessità sulla realizzazione della residenza protetta in Valle Madonna, espresse anche in Consiglio Comunale, con il voto contrario nel plesso dell'ex scuola media. Una scelta dell'attuale amministrazione che non ha avuto nessuna intenzione di trovare strade alternative per reperire ulteriori fondi, scrive il PD, ma che ha preferito scegliere l'ex scuola elementare e sfregge al quartiere di Valle Madonna, già saturo, congestionato, che avrebbe avuto bisogno di un'area verde e di parcheggi per i residenti. I dem pradolani spiegano che tale scelta ha comportato la donazione di un bene comunale alla ASL e non incomodato d'uso gratuito, che avrebbe consentito di far restare la struttura tra le proprietà del comune, che porterà alla demolizione dell'attuale plesso e alla costruzione di una struttura a un piano con soli 20 posti letto dai 60 previsti nel progetto dell'ex scuola media, con la perdita di possibilità di incrementare posti di lavoro. Prato l'ha bisogno di una residenza per anziani, Valle Madonna ha bisogno di un'area verde ampia e godibile e di un parco giochi, non di una semplice porzione di spazio verde. Per queste ragioni l'amministrazione comunale avrebbe dovuto confrontarsi senza decidere in solitaria per il bene comune.